La Certosa di San Martino è una delle tappe più apprezzate dal tour che i turisti compiono giungendo a Napoli. Un'opera architettonica imponente che parte dal progetto dello scultore senese Tino da Camaino, già famoso per il Duomo di Pisa e capomastro della corte a Gioina. Alla morte di Tino, l'incarico di architetto del complesso di San Martino passo ad Attanasio Primario. Dell'impianto originario restano i grandi sotterranei gotici. Rappresentano una notevole opera di ingegneria necessaria a sostenere l'edificio e a costituirne il basamento lungo le pendici scoscese della collina. Le sale che accolgono straordinarie opere d'arte che testimoniano l'opera dell'architetto Fanzago riescono a far rivivere un'alternanza di emozione che segue quella scaturita dalla vista del golfo che si gode dai terrazzi. Verona abbiamo trovato un'offerta strepitosa su Trenitalia, sul Frecce Argento e siamo arrivati qua benissimo, rilassati in quattro ore. Ormai siamo addirittura d'arrivo, stiamo andando via, però mi aspettavo una città distrutta, invece una città bella, bella da vedere, da vivere e anche la gente è bella. Da Brescia, così per curiosità perché mi è piaciuta molto come città e ci tenevo a vedere anche questo posto. È bellissima, tutta la città merita veramente di essere vista. Veniamo da Bologna e siamo venuti qua a Napoli appunto per visitare una città italiana piena comunque di cultura. La Certose è visitabile tutti i giorni alle 8.30 alle 19.30 tranne il mercoledì. È molto apprezzata anche da napoletani, anche se alcune evidenziano la mancanza di pubblicità proprio in città. Sono stato oggi a vedere la Certose di San Martino, già la conoscevo però sono tornato per rivederla perché mancava da tanto tempo e ho trovato anche altre sale della Certose aperte. Ovviamente tutto molto molto bello. Forse l'unica pecca di tutte le nostre bellezze, non solo da Certose di San Martino, è la mancanza di pubblicità che stesso il comune e la città forse non fanno.